Oh, io ho fatto l'imitazione quale può essere? E' arrivato conoscere, ok. Ok, ma conosci che... Di raggio, di raggio... No, ma raggio lo so, famigli, non è per... E' per quanto... Zero, fa raggio. Ma lo conosci... E dentro c'era il piccolo della situazione. Ma lo so conoscete chi è ragazzo? Sì, sì, vai. Attenzione, fratali, fratali, a destra per Natali, Natali in mezzo, poi una mischia, poi tutto. Pintabò, so scatto Natali, e che il culo di Natali ha segnato il titolino, 27esimo, ciao. Allora, questo faceva Massimo Caputi quando la Coppa America del 1999, Palermo, si è sbagliato, tre rigori, questo lo ricordate? Eh no, abbia. Martín Palermo, so chi è Martín Palermo? Ah, quello lì del Bocaglioni. Eh, una partita con la Colombia si è sbagliato, tre rigori. Ma perché dice che è Massimo Caputi? Sì, sì. E' stato fatto la maniera. Oh, mamma capisci. Fate valere mo' la parata ancora, ricordate. Sì, che te rigori. E poi, solo è quello. Una, Longhi. Ma bene. Io la prima e Barrono. No, non è Barrono. No, lo so fa io, non è Barrono. Io, papà, tutti i teletronici. Ma no, qualche mitazione di qualche personaggio. Eh, ma noi... Oltre a Pasco Rosso. Prezzo... Volevi... Volevi, sono stato un po' bello. Perché ho fatto un po' di Pasco. Sì, ho fatto un po' di Pasco. Adesso c'è la ricerca di Pasco Rosso. Adesso facciamo Fabio Capello, stessicato da Enrico Barriale a Steffi di Sturis. Buonasera a voi tutti. Mi è piaciuto quello che lei ha detto, Roma ha giocato, buonasera anche a lei. Com'è che disse Barriale poco la volta, che la bungolava? Che stasera è questa? No, non mi ricordo. Sennò è ancora l'imitazione di Bosco Rosso. E' un dondo lì, io non so. A me come mi vengo?